Radio Radicale, siamo con Alessandro Battilocchio di Forza Italia, membro della Commissione Esteri di Montecitorio, per parlare di un'importante iniziativa in chiave di sicurezza nazionale, ma anche delle altre notizie di politica estera che dobbiamo commentare e dobbiamo farlo perché sono di una gravità inaudita. Il dissidente russo Karamursa è stato condannato oggi a 25 anni di reclusione perché si è opposto contro alla guerra russo-ucraina. Una pena che è pesantissima e che inasprisce ancora una volta le relazioni diplomatiche con la Russia per quello che sta succedendo all'interno del suo paese, dove sappiamo che Navalny si trova in una condizione molto particolare, addirittura qualcuno sostiene che sia stato anche avvelenato. Allora, come ha trovato questa condanna? Io credo che sia un fatto gravissimo perché la condanna a 25 anni è un qualcosa di assurdo per un dissidente politico. C'è stata già una reazione in queste ore della comunità internazionale, c'è una richiesta specifica dell'ONU, delle cancellerie di tutto l'Occidente. L'ennesima provocazione di Putin che va ovviamente respinta con tutte le forze dalla comunità internazionale. Siamo in presenza di continue vessazioni da parte di Putin ai cittadini russi. Secondo lei ci vorrebbe una legge sulla dissidenza russa nel nostro paese per aiutare a fuggire da quei dissidenti che non condividono il regime di Putin? Diciamo che è una misura di attenzione che potrebbe essere valutata. Ancora una volta, ecco, Putin e il suo regime si confermano veramente molto lontani dall'Occidente. Senta, volevo chiedere una cosa. È rimasto sorpreso di quel fatto che è successo alla stazione di Udine dove un carico di mezzi è stato, diciamo, si era fermata la stazione di Udine. Abbiamo scoperto che tipo di armi manderemo all'Ucraina per difendersi. Allora questa lista doveva restare segreta. Come ha trovato questa vicenda? Sì, diciamo, è stato in parte già chiarito dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, però è una dinamica un po' strana perché ho visto anche io le immagini che risalgono a qualche giorno fa al 15 aprile. Sicuramente è una dinamica strana. Sono armi di supporto all'Ucraina che ovviamente fanno parte di un pacchetto deliberato dal Parlamento. Però la dinamica, questi mezzi che circolano in pieno giorno e con grande evidenza, adesso ha qualche perplessità che probabilmente andrà chiarita. Senta, oggi lei è l'animatore di un importante appuntamento che si svolge qui a Montecitorio nell'ambito di quella che chiamiamo come sovranità digitale. Allora, è un convegno sulla criptografia. Perché lei ha voluto questo convegno? Che cos'è la criptografia? E che motivi di sicurezza ci sono in quella che voi definite come sovranità digitale? Beh, diciamo che è un tema di grande attualità, una tematica complessa, una tematica delicata, ma oggi si getterà un sasso nello stagno del dibattito politico sulla necessità di avere, anche in Italia, come succede in molti altri paesi, un centro nazionale di criptografia. Per la verità, un ordine del giorno a mia prima firma è stato già approvato, con il parere favorevole dal governo, in sede di legge di bilancio. In quel caso io chiedevo di valutare l'opportunità di un centro nazionale di criptografia. Ora vediamo se si può fare qualche passo in avanti. Ci saranno degli ospiti importanti e ci sarà un dialogo tra partner istituzionali, rappresentanti delle imprese, rappresentanti dell'Agenzia Nazionale. Perché questo tema della sicurezza cibernetica e digitale è, e lo vediamo quotidianamente, sempre più cruciale per la sicurezza del nostro paese. Ecco, l'Agenzia Nazionale per la Cyber Sicurezza, per la Cyber Security, non si occupa anche di criptografia? Beh, sì, in parte sì, però l'esigenza che vogliamo approfondire è quella della necessità di un centro nazionale che si occupi in maniera specifica di criptografia. Non sarebbe un doppione dell'Agenzia? Perché è una cosa, diciamo, è un settore in grande sviluppo e di importanza crescente, quindi dedicare maggiore attenzione a questo aspetto è qualcosa che va nella direzione di garantire appunto la sicurezza cibernetica e digitale del nostro paese, è sempre più indispensabile. Allora, cosa comporta la, diciamo, la violazione della criptografia? Beh, anche, diciamo, abbiamo delle minacce quotidiane che arrivano non solo dagli hacker del nostro paese, ma soprattutto arrivano potenzialmente da altre realtà nel mondo. Anche sull'aspetto della normativa probabilmente va fatto un approfondimento ed un aggiornamento, perché, ripeto, è un tema molto delicato, ma decisamente cruciale per la sicurezza del paese. Vuole dire qualcosa anche sul, diciamo, sui rischi che corre il nostro paese per l'azione delle spie e soprattutto se lei ritiene che ci siano dei settori che noi non controlliamo, per esempio come Telegram, che ci risulta è nelle mani, cioè controllata dai russi. Si è parlato tanto di TikTok. Su questi aspetti io credo che l'attenzione non è mai abbastanza. Noi però abbiamo dei servizi che in maniera egregia, anche in sinergia ed in collaborazione con le forze armate, portano avanti un'azione quotidiana che garantisce la sicurezza del paese. Però, ripeto, dare risorse e strumenti a questi nostri uomini e donne impegnati in questo ambito. Bene, ringrazio. Grazie ad Alessandro Battilocchio. Naturalmente Radio Radicale seguirà questo convegno, lo proporrà nelle sue trasmissioni e lo registrerà. Quindi chi vuole potrà anche vederlo sul sito di Radio Radicale. Ringrazio l'onorevole Battilocchio di Forza Italia. Ringrazio l'onorevole Battilocchio di Forza Italia. Ringrazio l'onorevole Battilocchio di Forza Italia.